Anche quest'anno il BEARZ ha partecipato alla gara kangaroo della lingua inglese, che è una competizione a livello nazionale per la lingua inglese. Si tratta di una prova di ascolto e di comprensione. Hanno partecipato 20 ragazzi del biennio e altre tanti del triennio. L'anno scorso è andata bene, nel senso che abbiamo avuto ben sei semifinalisti che sono acceduti alle fasi regionali, per cui incrociamo le dita e speriamo che vada bene anche quest'anno. Nella parte in cui bisognava ascoltare c'erano vari dialoghi, bisognava scegliere la risposta corretta, invece nella parte scritta c'erano dei testi su vari argomenti come i soldi oppure altre cose e dovevamo rispondere. Sì, era abbastanza comunque difficile. Come ti è andata? Penso non molto bene, però comunque mi sono impegnato molto. Era abbastanza difficile, sì.